Hola Flaming, ciao per i cattiri! Oggi passeremo ben 48 ore all'interno di questa tenda super gigante e lussuosa All'interno ragazzi è super moderna E ovviamente manca l'ospite speciale di oggi Che ragazzi non vi aspettate chi è Adesso vi mostrerò chi è, vi lascio un po' di suspense Scrivete giù nei commenti chi è, vi do 3 secondi 3, 2, 1, non sbirciate nella copertina del video Eccomi sono io l'ospite Che ci fai qui? Mi hai invitato te Dovresti sapere perché, cosa ci fai qui? Sì va bene, noi lo vogliamo sapere Leonardo vieni Allora lui è l'ospite speciale di oggi Devi essere felice perché oggi passiamo 48 ore dentro Quindi se tu entri non potrai più uscire La velo dura? Sì, non ci puoi più uscire dopo Capito? Possiamo usare solamente gli skateboard per poter uscire Matti 5, vai Vai proviamoci Aspetta tu entrare Faccio vedere prima la casa ai ragazzi Qui c'è questa zona Che sarebbe la zona relax diciamo Dove appunto possiamo prendere un buonissimo aperitivo rigorosamente analcolico Poi qua invece abbiamo questa zona di trucco, svago, slime Dove ci sono questi evidenziatori a caramella Invece qua abbiamo questo cagnolino che assomiglia un po' a Leonardo Non lo notate ragazzi? Guardate? Leonardo vieni qua che fai lo screen con il tuo coetaneo Vieni, vieni Con lui? Sì certo! Che simpatia! Che simpatia! Vero? Allora vai, fate lo screen ragazzi Passatelo su Instagram Cheese Bene Taggateci e vi metteremo un like Che simpatia eh Come il cane Sono simpaticissima Poi invece qui abbiamo l'ultima stanza La stanza più lussuosa di tutte Oh guardatela! E' bellissima la stanza di relax, di posa, di svago Dopo c'è questi cupcake che non vedo l'ora di mangiare Me li mangerò tutti io Vero? Va bene, va bene Va bene, va bene E quindi ragazzi puoi pure entrare nella mia dimora Sei pronto? Ok Io dai, 48 ore non la vedo così difficile in questa casa bellissima Questa casa bellissima Quanti marshmallow ha portato ragazzi? Entro? Entro pure A gara chi toglie le scarpe prima vince Chi le toglie prima Vai E si fa tutto quello che vuoi Vento io Niente Ha vinto lui Visto? Uffa Quindi ora puoi decidere te cosa fare Dimmi te cosa dobbiamo fare Cosa vorresti fare? Cosa vorresti fare? Io boh Avrei bisogno di bere Di bere l'acqua? Sì Ok Qualcosa? Bene, se vuoi l'acqua Non te la do in bocca Ma in testa Bene, aspettami qua Allora Eccomi qua con questo gioco Fantastico Chi vincerà? Come funziona? Vincerà il cupcake Allora inizi tu Perché sei tu che hai voluto fare questo gioco Vero? Ragazzi Mi sto un pochino male No Va bene Va bene Allora Dovrò girare questa freccetta Meno uno Ok Quindi ti dovrò togliere Uno di questi bastoncini E Se toglierò quello sbagliato Perché uno di questi è quello sbagliato Uscirà tutta l'acqua Ok? Però una volta che l'avrai fatto te Vediamo se è questo Stringi i denti Oh Il ragazzo è salvo È salvo È salvo Quindi adesso lo metto io E fai la stessa cosa con me Chi vince vince I cupcake Piani Bene Ora la provo a fare io Vai Ok Giro Gira Meno uno Attento a togliere quello sbagliato Tolgo Togli È successo qualcosa? Ora sa te Fermo così eh Così? Vai Bellissimo Tre due uno Meno due Ragazzi Ok 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 Eh Direi di togliere questo Occhio a cosa togli Sì 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 Aspettati un po' d'acqua È cascata l'acqua È caduta Sì Quindi hai vinto? Ho vinto Ora voglio che mi dai tu i cupcake Perché ho fatto già troppe cose io Dove sono? Ah Allora Alle rosa Non so io E quell'altro lo mangi dai più buoni Beh No Ragazzi ma mi sto cercando di corrompere vero? Dai No 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 Questi sono tutti i due miei Tutti e due? Certo Dai è un morso Allora mi mangio quello più buono io Bene Ora siccome abbiamo mangiato mi è venuta voglia di mangiare E per farlo prima devi diventare un cupcake anche tu Io quindi anche te No io no Io no Eh sì 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 No sono diventato un cupcake ragazzi Aspetta Bene Bene ora Vediamo le buste Prendiamo queste buste perché hanno il cibo dentro Ok Quello celeste è tuo e quello rosa è mio Ok? Ok Dammi la mia busta con il mio cibo E tieni questa che è tua Accomodati pure nella postazione cibo Allora Sei pronto a mangiare? Prontissimo Bene Io direi di aprire questa busta per prima Vai Vediamo cosa c'è qui Oh Apriamo Buono Buono Ok Bene Sei pronto a mangiare? Io direi di iniziare da queste Allora Ti faccio assaggiare questo Va bene? Buono 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 Assaggia questo Sì È morbido? Cioccolato Penso di sì È morbido È morbido È anche sporca Mi sporcoli più Assaggiamo questo Ah È buono? Sì Ma che fai? Adesso Adesso assaggiamo un biscottino Metà per uno Metà per uno Piglia un pezzo Vai Buono Assaggia Assaggia? Prima io Ma prima se devo finire quest'altro Croccante Ci siamo anche Un gobbanno di cibo di Insomma Siamo arrivati al limite Con il pranzo E mi sta prendendo caldo Quindi Non mi fai a prendere un mentaglio Vai Ti aspetto qua Mi vai a prendere un mentaglio Esatto Ma vuoi stare comoda? Certo Chi è? Anni Vai Però dovresti mentagliare Dovresti mentagliare un me È bene no? Sì Bene ragazzi Ci vediamo al prossimo gioco Per passare il tempo Che fai con questa padella? Si mette alla braccia Leonardo Adesso direi di andare A preparare il fuoco per stasera Per cucinare con questo padellino Ok Cucineremo Leonardo Ma questi sono dettagli Ora si vede? Sì Ora si vede Bene Andiamo con questi? Sì Questo lo teni tu Io? Sì Ora capirai perché lo dovrai tenere tu Perché Non possiamo toccare con i piedi per terra Quindi bisogna andare con le mani Ok Bisogna andare di qua giusto? Sì Di là bisogna andare Vai Charlotte Sei lentissima Ecco qua i legnetti Leonardo Come sei lento? Vai 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 avanti Sembravi te lentissima Avanti E non ci riesco Qui ci sono i legnetti Legnetti? Li dobbiamo portare laggiù? Ma avete visto qualcosa? No No ragazzi Vero? No Eri qua dietro a me E sei arrivata Leonardo Ho un uccello Sì sei volata Sei volata Aiutami a portare i legnetti Vai Forza Sì Tieni Vabbè Guarda come sono Brava Dammi due legnetti Ah ma lo sai che non ti ho detto Che laggiù ci abita mio zio Guarda in quella casa la bianca Ma dove? Quella lì bianca Chi arriverà prima Proprio lì? Eh 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 Non più cadi eh No Vero Dai Dammi una mano Vieni 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 Ma mi spieghi dove lo vuoi fare il fuoco Eh qua Ma qui piglio fuoco l'albero Ma non è vero Ma com'è possibile? È possibile Legno legno Arriva fino a qua il fuoco Non è che arriva fino a lassù Se dai fuoco a casa mia Ti denuncio Va bene Vai Guardate i miei calzini Quanto sono carini Allora mi si è rotta un'unghia Stranamente Eh beh mi è tutta colpa tua Leonardo Come sempre Ecco come sempre Esatto Allora ragazzi Adesso aspetteremo il buio E vediamo se ha ragione Leonardo Perché cucineremo con il fuoco acceso Vediamo se ha ragione Leonardo Che non prende fuoco l'albero Vedate di me Poi stasera vedrai Va bene? Vediamo A dopo ragazzi A tanto accadere Allora il fuocarello è acceso E ora si cucina l'uovo Giusto? Esatto Forza forza Vai Non molliamo Ok Oddio è venutato a topolino ragazzi Guardate è venutato a topolino Non ci credo È venutato a topolino l'uovo Questo è un ottimo Un ottimo inizio Vai Ora si cuoce Mettiamo qua Vediamo cosa esce fuori Vediamo com'è che passa Leonardo A fare l'uovo Vediamo cosa esce fuori Sì Magari non mettere il legno dentro Mettiamo qua Prova non superata ragazzi Prova fallita Sì ma è pieno di legno Eh prova fallita Bravo Applauso Come si fa? Ragazzi Aspettiamo l'uovo Attendiamo Ragazzi È bravo a alimentare il fuoco Leonardo Oddio Aiuto pure Ok ora possiamo Guardate che marshmallow buoni Ci sto Buono Ok ragazzi Basta Torniamo in tenda Se lo fate ragazzi Con l'accompagnamento Accompagnamento di adulti Mi raccomando Bene Ora torniamo in tenda Finisco di mangiare Che sonno Che sonno Oh Che sonno Che sonno Anche di notte Sarà l'ora di dormire Che ne dici? Io dormo con il mio pupazzino rosa Ragazzi Io dormo Questo mi sembra molto bellino Ripigli anche il colore Allora Allora Prima di dormire Ti voglio insegnare un saluto Un saluto Il saluto dei fenicotteri Ci stai? Vai ci sto Alla grande Apposta per te Vai Allora Vediamo ragazzi Vediamo ragazzi Allora Allora Così Così Sopra Sotto Così E pugno Ok Ok Ci siamo Ci sono Ci sono Perfetto No ragazzi Fatti cinque Siamo riusciti Vai Bene ragazzi Imparatelo anche voi questo saluto Perché è fondamentale Vero? No Prevegli andare a dormire Spacca 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 Va bene Buonanotte Tu pensi che questa sia Un pescino? No No Avevi scelto questo Buonanotte Ciao Buonanotte Aia Spengiamo? Spengiamo Buonanotte Buonanotte No No Che fai? C'era una mano Non c'era una mano lì C'era una mano lì Che ha fatto così grazie Ma che dici? Perché no C'era una mano Che ha fatto il grazie Sul serio? Sono seria Guarda 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 Ma cos'è? Non lo so Fammi alzare Non ti preoccupare Vado a guardare Va bene? Allora Facciamo una cosa Stanotte faccio il guardiano Per queste 24 ore Le prossime 24 Fai te il guardiano Va bene? Va bene Facciamo un po' C'è una scopa fuori Provo a vedere se riesci a prenderlo Sicuro? Ok Provo a guardare? Ah Sì 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 Ciao E te dormi? Buonanotte Buonanotte Fai per bene Cerco di non farti chiesto Va bene Tranquillo Fai per bene Buonanotte Buonanotte Leonardo Sto ancora dormendo Leonardo Aspettate un'idea Prendiamo questo Leonardo Leonardo Buongiorno Ma cosa fai? Ciao Buongiorno Sveglia la mattina Na 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 Sei riposata Fia? Io sì Tu com'è stato a fare il guardiano? Oddio Spegnativo È un cielo nuvoloso Io direi di andare a vedere se si è spento il fuoco Allora ragazzi il fuoco si è spento Qui sto sotto per bene Non è successo niente Eh che bravo Quindi adesso questo è il tuo premio E la tua colazione L'uovo di ieri sera Provo a mangiare No Non lo provo a mangiare Bene Ora noi dobbiamo passare tutte le prossime 24 ore Perché 24 le abbiamo passate E 48 Io un'altra notte sveglio non ci sto No No Benissimo Allora Leonardo Ho perso Ho vinto io Io ho perso Ho vinto io Bene ragazzi mettete un like perché ho vinto io Vi mando un bacione Ci vediamo in un prossimo video Ciao Ciao Hai perso Grazie grazie Alla prossima Alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.